Dunque, chi era quel tipo? Hai sentito parlare dei Rutland. Hai appena incontrato il figlio del senatore, James Rutland. Ha frequentato West Point. E questo è quanto. Posso rivedere il filmato? Bentornata, Laura. Desidera che mi occupi del suo bagaglio a mano? Winston, dai un'occhiata a lui. È quasi identico, ma disposto di vedere. Identico a cosa? A qualcosa che ho visto anni fa in Nepal. Distante da qualsiasi civiltà pre-Inca. Crede che si possa trattare di un frammento della spada? Quale spada? Forse un'altra dello stesso tipo. Zip, voglio sapere tutto sul conto di questo Rutland. In particolare la sua attuale posizione. Prova in Peru. Ha menzionato Paraiso. Ha accennato ad alcuni collegamenti con i manufatti del posto. Ha detto che sei stata a Paraiso. Lì cos'è successo? E chi è, Amanda? Alistair, vedi cosa puoi ricavare da queste immagini. Zip, chiama Anaya e chiedile se possiamo incontrarci a Paraiso sabato mattina. I turisti non sembrano molto ben accetti in questi tempi. Forse non hanno un debole per quelli con le pistole. Lo sai che sono gli accessori a fare la differenza. Notizie di Anaya? Ha detto che ti avrebbe attesa la statua nella piazza del mercato. Hai scelto un luogo tranquillo? Ok. Ciao Lara Le strade non erano così deserti un secondo fa Eppure ho cercato di passare inosservata Spero fossi io a incutere timore, non qualcos'altro Qui non c'è niente Solo frammenti di antiche ceramiche e corpi di vecchi amici Se avessi saputo che ci saremmo ritrovate qui, non ti avrei mai parlato della Bolivia Eppure sei venuta La Paz non è così distante Nemmeno il passato Lara, ci vediamo dopo Vittima a me, io te la raggiungerò dopo essermi occupata di questi fatti C'è qualcuno? Perchare il giro Aaaaaah! Uccidetela! Aaaaaah! Aaaaaah! Piss it! That's it! Stop! Stop! You suck! Stop! Stop! I see you! Citizen! I see you! I see you! I see you! Quattro! Circondatela! Uccidetela! Sparatene! Distraetela! Anaya ha chiamato dal suo cellulare ai mercenari alle costre. Dille che sto arrivando. D'accordo!